Siamo stati bravi oggi, come in altre circostanze, a fare risultato anche in dieci, ma non sempre credo che ci si possa riuscire. Quindi bisogna essere un po' più attenti, un po' più tranquilli, cercare di fare le cose che proviamo durante la settimana. Avere la tranquillità di sapere che le partite sono difficili, che si può anche soffrire, quindi bisogna superare i momenti di difficoltà per cercare poi di fare quelle che sono le nostre cose. Mi dispiace magari a volte come sono venute, nel senso che la nostra idea è quella di fare anche un buon calcio, cercare di offrire uno spettacolo. Questo magari a volte ci ha portato a essere poco equilibrati in alcune situazioni per poter fare belle cose. La classifica è buona, non credo che in questo momento la guardiamo più di tanto, c'è tanto da lavorare, c'è tanto da sistemare alcune cose che non sempre ci riescono come vorremmo. Mi dispiace oggi magari non aver fatto la partita come avevamo fatto nelle ultime uscite e aver concesso un po' troppo situazioni, un po' troppo possesso a loro senza creare troppe difficoltà nella prima parte della partita. Quando poi riesci a vincere le partite del genere cancella un po' quello che è stato l'andamento della partita. Spero, come ho detto prima, che possiamo trovare convinzione, possiamo trovare autostima, cercare di non commettere gli errori che sono stati commessi in queste partite e guardare con più serenità alle prossime. Quello che volevamo fare oggi era cercare di essere un po' più stretti con i reparti, cercare di portarli a giocare come hanno fatto, per cercare di ricavare quei spazi che potevamo attaccare. Invece siamo stati un po' troppo passivi e abbiamo lasciato a loro l'iniziativa. Quindi questo credo che sia stato l'analisi del primo tempo. Poi al secondo tempo è stata una partita a cuore, lotta e voglia di comunque portare a casa il risultato e fortunatamente ci siamo riusciti. Vogliamo comunque dare delle soddisfazioni alla gente che ci segue sempre, che è innamorata di questa squadra. Quindi vogliamo cercare di dare il massimo a tutte le partite, tutte le situazioni, tutti gli allenamenti per cercare di fare il meglio possibile.